Ciao, sono sul treno in direzione Torino, ho da poco completato la conferenza al Festival dell'Oriente e è andata veramente molto molto bene. Intanto c'era un bel numero di persone e ovviamente molti non mi conoscevano, quindi questa è stata la cosa più divertente. Più divertente perché comunque io mi diverto sempre nel vedere i visi delle persone che sono magari scettiche, che sono capitate tra virgolette lì per caso. Questa è la cosa più interessante in assoluto. Ebbene, ho visto che quando sono cominciati ad arrivare i primi messaggi, ebbene, le persone hanno compreso che non stavamo giocando, che stavano facendo qualcosa di estremamente serio e di veramente efficace perché comunque tutte le persone che hanno ricevuto i messaggi diretti a loro erano veramente stupite perché ovviamente erano calzanti al 100% e gli esseri di luce sono voluti veramente essere precisi e puntuali, portando un sacco di informazioni e un sacco di particolari. Quindi è stata veramente una bella esperienza. Abbiamo fatto un lavoro energetico molto potente, dove la persona che è stata scelta dagli esseri di luce per ricevere il lavoro sulle forme pensiero si è commossa, ha lasciato andare tantissime cose molto molto pesanti per la sua vita e quindi sono molto molto contenta di questo. In più tutte le persone che hanno partecipato hanno sentito questo lavoro energetico, l'hanno ricevuto tantissimo. E poi, sorpresa delle sorprese, la cosa meravigliosa è che ho sperimentato una meditazione, che non è propriamente una meditazione, è proprio un metodo che porta in uno stato veramente, veramente elevato. Lo stato della Divine Connection, che è uno stato divino in cui mi stanno spingendo gli esseri di luce nel portare le persone che incontro quando faccio il lavoro di gruppo. Ed è veramente un lavoro molto profondo e le persone erano veramente entusiaste perché non volevano più tornare, la vibrazione che hanno raggiunto era veramente molto molto elevata. e tieni conto che abbiamo fatto questo lavoro, penso, in sei minuti. Sei minuti perché poi c'era il relatore successivo. Quindi sono veramente contenta di quello che è stata questa giornata, questa esperienza. e sono molto felice perché le persone hanno compreso che trasformando la propria energia e portando nella loro vita la possibilità di ricevere e di raggiungere questa vibrazione così elevata, oltre che trasformare la propria vita, possono arrivare a dare un grandissimo contributo a un livello molto più espanso. Forse, forse, più saremo, più la nostra vibrazione si alzerà, più saremo a cercare di tenere la nostra vibrazione a questo livello così elevato, magari, magari, riusciremo a portare un cambiamento veramente grande. Perché non? In tutto il mondo. Un abbraccio forte, grazie e buonissima serata. Se non l'hai ancora fatto, metti mi piace a Canalizzazione Vibrazionale Angelica e segui a Patrizia Sette Educati così riceverai le notifiche. Ricordati che domani, tra l'altro, abbiamo la diretta. Ciao, a domani alle 21. Ciao, ciao.